non è così come questa puttanita allora eh, mi direi che è piuttosto fastidiosa ma non è che è molto forte, però specializzata in attacchi deboli ma rapida eh, ora userà le barriere cazzo ma non ferma questa stronzeta cortana RAAAHHHHH non ha più barriere MAZZO MAZZO sta per finire il tempo però VAI TIME OVER non c'è più bisogno, hai vinto tu, basta ricordiamo che è un gioco del vecchio Sonic che è infatti così vedendo basso, ci c'è tempo allora, sì, flying carpet è questa gialla vi consiglio di non guardare il paesaggio se no, primo mi viene il volto a stomaco secondo mentre guardate lei intanto mi prenderà a martellare ma io lo posso guardare per fare un gioco ok Super Saiyan Infinito ha vinto anche contro DM bravo Super Saiyan Infinito alla prossima alla prossima con, eh, facciamo vedere l'avversario beh, Berk quindi alla prossima alla prossima